Sebastian si lavora in funzione di gara 2, come stai e come sta la squadra? Dopo una settimana senza partite è stata una pausa utile? Sì, stiamo lavorando parecchio, siamo riusciti a riposare un po', che ci serviva. Siamo carichi, molto felice di essere in una finale che è ancora apertissima. Cosa cambia rispetto a gara 1? Sappiamo che abbiamo fatto una brutta partita, nonostante che loro hanno fatto molto bene, allora ci tocca studiare bene e guardare cosa fanno loro e cercare il punto debole. Da questo punto di vista avrei visto le due partite che Civitanova ha giocato a Roma in Final Four e Champions League, ha aiutato a comprendere meglio il loro gioco? Sì, sicuramente è servito, spero che sicuramente sarà diverso dal gioco che hanno fatto in Champions. Penso che dobbiamo stare più attenti a quello che facciamo noi e essere carichi noi. L'obiettivo è che non sia questa l'unica partita da giocare in casa nella Serie? No, certo, sicuramente, spero che andiamo la lunga, sarà difficile, lo sappiamo, però noi stiamo qui e stiamo lavorando tantissimo per portare lo più lungo possibile. Queste sono partite che si decidono spesso volentieri in battuta ma c'è anche molto di più, il gioco in primo tempo può fare la differenza visto che tu sei un centrale? Sì, può fare la differenza, credo che dobbiamo fare tutto bene, battuta, soprattutto l'attacco, però queste partite di altissimo livello credo che bisogna fare bene un po' di tutto. Ultima cosa, un appello al pubblico, è una gara importante, non serve quasi farlo, però ottenere un'ulteriore vittoria al Palatrento sarebbe fondamentale. Sì, certo, come ci dicono noi, mi raccomando a tutti i tifosi che li aspettiamo, sarà una bella partita e abbiamo bisogno della carica.